buongiorno piccola maialina è la nuova fatica di janos questa volta i protagonisti della storia sono piccolo tigre e piccolo orso i nostri due amici hanno dei ruoli ben precisi e mentre piccolo orso si occupa della casa piccolo tigre deve appunto andare nel bosco a rifornirsi di funghi ma così facendo incontra questa piccola maialina che lo distrae completamente dai suoi doveri perché è un po' pigra un po' per di giorno però molto divertente tant'è vero che piccolo tigre perde un po' proprio la cognizione del tempo e addirittura si dimentica di tornare a casa piccolo orso naturalmente si preoccupa parte alla ricerca del suo amico lo trova e alla fine tutti ritorneranno nei propri ruoli condividendo amicizia e doveri quindi buongiorno piccola maialina di janos per logo sedizioni